Grazie a tutti! Visto che questo è uno dei pedali più richiesti, più comprati e più ricercati al mondo, hanno deciso di integrarlo a rappresentare il canale distorto di questo amplificatore. Vengono poi dedicate queste casse che hanno un cono da 12 ognuna, per cui si fa un mini stack, che è una soluzione che ultimamente tanti produttori stanno adottando. In questo caso, giustamente, Ibanez ha deciso di integrare quello che è un suo trademark, il Tube Screamer appunto. Come vi dicevo, abbiamo una sonorità pulita. E poi il TS9. È un amplificatore che sicuramente ha la potenza giusta per poter suonare dalla camera da letto fino ai piccoli club, utilizzando al massimo delle sue capacità. E sicuramente convincerà tutti coloro che già hanno un TS9 o vorrebbero comprarselo, ma in questo caso ce l'hanno già nella pubblicatura. Per cui, sicuramente, ottimo prodotto e ottimo acquisto.